Cambiamo argomento, parliamo di musica. Sergio Camariere, che in questo momento ha un grande successo, sta per far uscire il suo disco, sarà venduto bene in 15 paesi e ieri sera ha cantato alla Sistina a Roma. Non ho detto mai di essere perfetto, se ti aiuto io a scoprire ogni... C'è anche Alex Britti sul palco della Sistina di Roma a festeggiare Sergio Camariere al ritorno per la prima volta dopo il Festival di Sanremo in quella che ormai è la sua città. Una serata trionfale all'insegna della grinta e di una presenza scenica sempre più convincente da parte di Camariere e dei suoi musicisti. Adesso si può dire davvero che Sanremo ha rappresentato per tutti loro una svolta. Mi ero proposto ultimo perché per me era già un premio arrivare, poi è andata male. Poi è andata così e il destino ha voluto che siamo, cioè ci troviamo ancora ai vertici delle classifiche italiane, non so, siamo alla settima settimana. E' veramente un buon momento, indimenticabile. E poi il Sistina questa sera veramente, abbracciato dalla gente di Roma, da tutti i miei amici, da tutte le persone che da vent'anni mi vogliono bene. Gli scantinati, il club, ora il Sistina, non è che la prossima volta ti tocca venire al palasporto. A me mi piacerebbe molto tornare qui a Sistina.